La verità della vera natura del nostro mondo sta gradualmente emergendo. Il filmato che segue mostra sia il giorno che la notte, fianco a fianco, è davvero sorprendente. Se vivessimo veramente su un globo come sarebbe possibile vedere giorno e notte contemporaneamente? Ci è stato detto che la notte e il giorno avvengono come conseguenza della rotazione della terra sul suo asse, ma il video che segue lo smentisce completamente. Vedrete chiaramente giorno e notte nello stesso momento, separati distintamente su un piano piatto. Tutto questo mi ha portato alla conclusione che la luce del giorno è diversa dalla luce solare. Questo è dovuto alla composizione dei gas della nostra atmosfera. La nostra aria è composta dal 78% di azoto, dal 21% di ossigeno e dall'1% di gas nobili. Questa combinazione ci permette di vedere il fenomeno del video giorno e notte. Questa è la prova evidente che la luce solare è diversa dalla luce del giorno. Questo è un video molto raro ed interessante per tutti da guardare ed apprezzare il creatore per le sue opere meravigliose. Terra piatta, prima domanda. Se la terra è piatta come mai diventa buio. La risposta è abbastanza semplice. Ci hanno mentito sulla luce. Non viaggia per miliardi di chilometri. La sua portata è solo di poche migliaia di chilometri alla meglio. La velocità della luce è un'ulteriore menzogna per perpetuare il modello dell'universo leocentrico. Il nostro sole è vicino e piccolo. Questo è l'esempio del mondo reale di come il nostro sole proietta la luce. La luna nell'oscurità. E la luce del giorno fianco a fianco. L'ho visto io stesso diverse volte e per me non ha mai avuto senso. Ma l'indottrinamento del globo ha fatto sì che scartassi questo pensiero, ignorandolo. viviamo su una bellissima, incredibile, meravigliosa terra piatta. spargete la voce! e 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